il veicolo di appoggio che abbiamo per questo test drive nel deserto come potete vedere è speciale è un mercedes unimog prima di salirci a bordo vi faccio vedere alcune curiosità questa barra led vi assicuro di notte nel deserto illumina in una maniera incredibile poi guardate le ruote si possono gonfiare sgonfiare con delle levette dall'abitacolo grazie a un sistema pneumatico i serbatoi per il carburante sono tre in questo lato ce ne sono due sdoppiati si possono anche mischiare i carburanti per esempio per fare benzina ad altri veicoli diesel a gasolio o benzina ovviamente le dimensioni sono enormi perché all'interno è come un camper una barca e pronto a qualsiasi evenienza dormire mangiare ci sono anche i bagni due ruote di scorta direi che è un bel mezzo ricordate unimog mi sembra in tedesco che voglia dire veicolo motore universale come potete vedere e sentire anche dal rumore siamo a bordo del mercedes unimog che ci sta facendo da veicolo d'appoggio è uno dei veicoli su ruote più straordinarie della storia e siamo qui con eugenio di desartica per farci raccontare un po le curiosità di questo di questo mezzo ciao eugenio ciao ciao a tutti allora è vero che questo unimog ha 850 mila chilometri ci puoi spiegare un po la storia di questo oggetto così straordinario il camion è stato comperato nel 1999 da una coppia di coniugi che era spedito in sud america per farsi le vacanze spedito via nave in argentina e loro andavano giù ogni tre quattro mesi stavano giù un mese lo lasciavano lì hanno girato tutto sud america l'hanno riportato in italia io cercavo un mezzo per essere queste caratteristiche e quindi praticamente l'hai comprato usato e ci hai fatto quasi tutti questi 800 mila chilometri come come l'hai utilizzato si diciamo che gli 800 860 mila chilometri sono stati fatti quasi tutti in africa su piste su strade su dune su sabbia per cui sono anche stati vissuti in maniera nel suo ambiente naturale perché raccontaci un po tu con desartica di che cosa ti occupi e come utilizzi questo unimodo il mezzo viene utilizzato come supporto come veicolo assistenza per i viaggi che organizziamo in 4x4 con le moto viaggi con veicoli a motore specializzati nei deserti che siano africani o artisi ma abbiamo scelto il nome desartica appunto per esprimere questo concetto quindi potete andare a vedere sul sito desartica.it.com per avere maggiori informazioni invece a te chiedo un'ultima curiosità cos'è la caratteristica più particolare di questo veicolo secondo te? probabilmente la progettazione, il nome Unimog vuol dire proprio veicolo universale e come tale tra le caratteristiche che ha nonostante l'utilizzo in fuoristrada questo veicolo non ha il riduttore ha un cambio a 8 rapporti 8? 8 che sono praticamente come fossero due cambi affiancati l'uno all'altro uno con rapporti corti e uno con rapporti in tutti e quindi si utilizza in maniera anche più facile, più intuitivo proprio per queste caratteristiche fantastico, grazie mille e andate a vedere sul sito desartica avventura grazie mille grazie mille